Bene raga, allora, salve a tutti ragazzi e ragazzi, io di startare ora perché già so che ci sarà una piccola introduzione e non vorrei perdermela insomma Quindi raga, già sulla mia account sono stati accreditati 10 euro e 7 quintesimi che già avevo io che... Ok, caricamento, epic, ok, battaglia reale, ok, sperando che tutto sta registrando, ok, loot lake, finita la balneazione, ok, ok Ok Aspetta, il boom è troppo alto, comunque mi sta sfondando i timpari, aiuto Non posso mettere in mano, no, non posso mettere in mano No, aspetta Ok Ok l'isola si è alzata Ma che cazzo sta facendo Lo scutrof La raga l'isola centrale, c'è dove c'è la casa Il cubo era sotto Il cubo è stato sempre sotto la casa Oh mio dio Come ringraziamento speciale per aver acquistato il pass battaglia sulla stagione 5 Comincerai la stagione 6 con 5 livelli gratuiti, grazie gioco Un attimo, no, non mi spolerare tutto così, no, non voglio spolerare niente Non ho guardato Figli di puttana, stavolta l'hanno fatto, non lo facevano pure con Omega Che bastardi Alla prima l'hanno fatto, con Omega no, che io potevo finire, vabbè È cambiato qualcosa Nell'armadietto, raga, che io metto tutto Oh, che cazzo Aspetta che io metto Le borse degli oggetti mistica, la, come si chiama? Oggettistica Ehm, ok Vabbè, qua non mi interessa Ok, raga, io direi che siamo pronti Per andare a vedere Ma dove lì vedo che c'è abbassato Vabbè, comunque, siamo pronti per andare a vedere il nuovo pass Allora, intanto andiamo per andare a vedere tutto Allora, abbiamo il DJ Yonder E le sfide del pass battaglia Le sfide calamity Ah, saranno per questo? Ok, sì Calamity, vediamo come diventiamo 20.000 P.E. 50.000 P.E. Bellissimo Raga, bello Ok, poi qua abbiamo Una cosa che non fa vedere Abbiamo una torta Una torta con una coda Una torta con una coda Vale, ok Vabbè, c'è un ballo qua, che cos'è? Onda regale, sì Papa siamo Un attimo, raga Stavolta che devo usare il volume Ok Qua abbiamo il posto della battaglia Io, intanto, vorrei zoomare un pochettino Però non posso Comunque, qua poi abbiamo l'isola volante Questa è l'isola volante Perchè quello del Loot Lake Qua abbiamo il mantello Fiabesco Poi qua Nooo Ma che cosa L'avevo visto su Instagram questo Ma dal video è più bello Raga, guarda, un cane Un cane in un bat pack Bellissimo Qua cosa c'è? L'indepinto Premi play Vabbè, ok Qua che c'è invece? Spacca tutto Spacca tutto Ok Ok Qua è sempre solito e quasi 200 Q-Bucks in un livello solo Nooo Questa è la scia più bella del mondo Raga, secondo me Ok Che cazzo è questo? GDAP Ehm Non mi dite che Ma è Ma è davvero una skin? No, vabbè, non ci credo Non ci credo raga Ma non può essere una skin Comunque Ok Pomo Che senso? Un giocattolo pomodoro Vabbè Ehm Qua che c'è? Luce guida Bello Mi piace? Corridore 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 Coperto Io mi tocco le palle qua Ehi Chi è questa cosa? Vabbè Comunque Ehm Il drago Abbiamo scaglia Destino Abbiamo la skin Una skin pirata o sbaglio? Che cazzo è? Una skin pirata? Come si chiama la skin? Fiaba Ehm Ehm Cappuccetto rosso Probabilmente Comunque Qua abbiamo un ballo Vediamo Scappone da pisciare Vabbè Ok Qua Abbiamo sempre cose Beh Qua abbiamo le ali Cioè Qua c'è una scia E raga Ma tutto uguale così sono Poi è messa pure male questa Dai Epic Qua abbiamo Un altro cane Ossicino bianco Bello Aspetta cos'è questo? Strisciante Tipo simile a oscilla mi sa Mi sa che è tipo simile a oscilla Si Ehm Vabbè Qua abbiamo pivistrelli Cose Bella Tramonto E' bellissima come skin Ehm Scaglia rosa Ehm Poi qua abbiamo Schia Noo Vabbè raga Ma di che stiamo parlando Ma di che stiamo parlando Ma è stupendo Ossicino o caffè Ok 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 Vabbè Ehm Poi qua abbiamo flamengo Bello Ok 800 Ma scagliane Quanti scagliane ci sono? Manni E poi qua abbiamo l'ultima Manni E un lupo mannaro Noo Noo Maddo Che cosa non è Questo coso No raga Andiamo a shoppare subito Ok raga Io voglio Soprattutto voglio questi due Acquista passbattaglia Ah si acquista passbattaglia Il cazzo Ancora devo shoppare I mille bucks Ok Aspettate raga perché Non so se registra Quindi E poi non penso Posso far vedere cosa sia Quindi ci vediamo dopo Bella Ok raga Io penso di averli messi Eccoli Mille V bucks Ok E andiamo Immediatamente Al pass Ok Allora Ottieni subito questi oggetti Consume calamity Ehm Per un valore di 3.500 Di W bucks Costume calamity Costume di J under 500 XP Di bonus Per la partita Stagionale Qua 10% Di bonus Di sfide settimali Extra Calamity progressive E cazzo Non lo so Ehm 3 piccoli Amici 3 picconi 5 Vabbè comunque Andiamo Comprato raga Comprato Ok Ok Pass battaglia Potenziato Ok Eccola qua DJ under Calamity Sfide Le sfide Questo cos'è? Sfide calamity Sfide pass battaglia Va bene Ehm Livelli gratis Ehm Livelli gratis Ok 150 Ehm 150 bucks Ok Raga Ecco qua DJ under Ecco qua Aspetta Aspetta che Ecco qua Ehm Calamity Poi vediamo i balli Se ci sono balli Non pensano balli Ehm Zzzzz Ok Come ballo c'è questo? Ok Perfetto C'è pure una nuova cosa? Che cos'è? Che cos'è? Calamity Si ma non mi piace Che non la metto Comunque raga Mettiamo Mettiamo DJ under Ehm Andiamo raga Andiamo Ah io devo andare prima in parco giochi Io devo andare in parco giochi Raga perché voglio vedere Voglio vedere Cosa è cambiato nella mappa Senza avere rompimento di palle Insomma ecco Ok Le impostazioni non hanno toccato niente Bene Benissimo così Adesso raga Questo pass battaglia Differente dell'altro Che non l'ho finito veramente del pochissimo Perché era il 94 Ehm Comunque Crescendo perdere Questo lo andremo a finire Raga Allora Ehm Ci sono tutte le cose Qua cosa c'è? Che cos'è questa cosa che gira? Ci sono tutti i posti Le cose dove Si è fermato la Come si chiama? Ah è l'isola volante Non ho ancora un nome però forse No aspetta è questa L'isola volante è qua Questa che cazzo è? Aspetta dov'è? Vediamo E' lì ma lì non c'è un cazzo C'è senso Adesso voglio vedere un pochettino la mappa Questa cosa è cambiata con questo aggiornamento Poi andiamo a fare una partita normale Beh Riusciamo Comunque Ehm C'era che qua non c'è niente Pi o meno Perché Non mi piace che c'è qualcosa C'è Qua mi piace che gira C'è qualcosa che gira Ma non c'è un cazzo Non capisco Guarda Non c'è nulla Non c'è assolutamente nulla Non capisco Uè DJ Uè fratello lama Scusa ma li devo spaccare Fratello lama Ti voglio un tacco di bene Fratello lama finto Però sei un lama Quindi ti voglio bene Ok raga Allora prendiamo Andiamo a vedere La nuova Loot Lake 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 Andiamo velocemente A vedere Loot Lake Veloce Oh già si intravede qualcosa Già si intravede qualcosa Già si intravede qualcosa Già guardate qua che cazzo è successo raga Guardate qua Comunque ora che posso farvi rivedere Il trailer La cosa Ve lo faccio rivedere Ok Guardate qua Wow Oh my god Che cazzo è Io ovviamente sono a campo Ok 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 Bello 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 Oh che cazzo è Ma che cazzo Ma che cazzo Raga ma ti fa volare sta cosa Cioè se io Allora tipo dente di ma sta Se io ci sopra così Invece Nooo Mi dà il colpo La caduce Mi fa volare Questa è buona per andare in safe Va bene raga Bellissimo Raga Siccome è già Alla Ghicchiare Io Vi direi Che questo video può finire qua Noi ci rivediamo al prossimo video Bella raga Raga questa è una cosa che prima non avevo fatto vedere Allora vi faccio vedere Un attimo Se noi andiamo qua In queste zone così Queste così Delineate così Ci sono dei cubi Che se noi consumiamo questi cubi Che se noi consumiamo questi cubi Guardate che cazzo succede Diventiamo invisibili Vabbè sono in questa zona Perché riusciamo dalla zona Non penso No perché non penso Durano per sempre Che è troppo scorretto Quanto durano? Se si possono trovare salti altissimi Se dura per sempre la camisa che un pochettino è troppo scorretto Non lo so Non lo so Ah vabbè infatti non si possono prendere le armi Quindi pensa che Diciamo noi Quando finirlo Ma Non possiamo prendere le armi Perché se prendiamo le armi Raga qua Diventa un casino Questo lo usano di più i camper Quindi penso No finisce Finisce Dicite quando vuole quando finirlo Sì ok 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 Non si può saltare E C'è un Tornado Che cazzo è? Ok Se io vado qua dentro Mi riporta su E se io vado sempre qua? Sto in un perenne volo così perché Che cazzo Che cazzo Oh Ah ecco il cubo Ecco che prima ha fatto il cubo E là Vabbè raga io adesso andrei a vedere se posso farvi rivedere Il trailer così andiamo a vedere Andiamo a vedere il nuovo a rivedere il nuovo trailer si può vedere perché quello non l'ho visto abbastanza bene Speriamo che si può rivedere non si può rivedere ci salutiamo Ehm Ehm va bene Andiamo 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 No non si può rivedere il cazzo Io ho picnic e me lo voglio shoppare Ok Siamo a livello 7 Non si può informazione sul pass Vediamo Sì ma io vorrei vedere il trailer Vabbè come funziona Vabbè ma vuole funzionare un pass Non è il primo che compro Vabbè non si può rivedere il trailer Quindi se questo vi do più Non è il primo Non si può rivedere il trailer